E ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi molto velocemente vi andrò a spiegare cosa c'è dietro il mio lavoro Allora come potete vedere al massimo da alcuni video anche di giochi Se leggete sotto in basso al video c'è scritto action director Io uso action director per montare i video e soprattutto è un'ottima app gratuita sia per telefono che per ipad Che ho qui davanti o per computer è gratuito da tutte le parti sia action director che power director Sono due cose proprio diverse power director e più per i computer però non so se a pagamento questo non ve lo so dire Non voglio dire una bugia nel caso poi vi dico che non sia pagamento però sia pagamento Action director è tutto gratuito c'è anche quello in pagamento ma non c'è obbligatorio non è obbligatorio Dopo ovviamente c'è dietro anche il mio ipad che mi serve molte volte per quando vado a registrare video un po' più importante E comunque i giochi li faccio qua sopra Sì vabbè ho quella di dorai ma è vecchissima È l'unica cover che ho I giochi che vi faccio vedere li gioco qua sopra Perché? Perché App Store sta mettendo tutti i giochi molto interessanti E poi ovviamente tutti i giochi oltre al playstation ci sono anche uno per i portatili Il computer invece lo so come veramente punto di studio per il canale come youtube studio Ora ecco guardate Youtube e poi qui personalizza canale e gestisci video Posso qui poi metto gestisci video mi apre youtube studio Ancora se carica ecco un attimo ecco youtube studio dove ho vabbè la dashboard tutti i video E poi mi piace poi visualizzazioni ho tutto Anche il magari se prendo un copyright alla monetizzazione Tutte cose molto importanti che solo queste cose le trovate solo se Avete youtube studio sul computer Poi oltre guardate quante chiavette ho perché mi servono Ho una, due, poi ho gli altri Questa è quella mia personale infatti è tutta, vabbè è un figlio E poi ho quattro chiavette che mi servono per la memoria esterna Sì perché ho anche un computer portatile ma che non è di qui proprio Quindi comunque uso questo che va bene È più grande della mia televisione perché vabbè ne ho tante però Che casino Vabbè Questo è un cestino E poi grazie al mio computer sono riuscito a farmi finalmente Una scrivania molto importante per il canale Spero che questo video vi sia servito Magari se volete aprire un canale youtube O se volete sapere un po' com'è Quando si ha un canale youtube Spero che questo video vi sia piaciuto Ma quando iscrivetevi e campanelline Ci vediamo domani perché domani Unboxing Due Ne farò due unboxing Molto belli E uno è grosso molto E un pacco negrosso Ci vediamo domani Ciao ciao Ciao